Ogni anno nel mondo vengono effettuate 92 milioni di donazioni di sangue. Quasi il 50% di queste avviene nei paesi sviluppati, dove si concentra solo il 15% del totale della popolazione mondiale. La giornata serve per sottolineare soprattutto nella nostra regione la necessità di eliminare la carenza. Noi abbiamo ancora oggi 25.000 unità che provengono da altre regioni, da altri territori che sono più fortunati, più sensibilizzati al dono e che hanno un esubero nel rapporto alla necessità e disponibilità. Donare perché? Per dimostrare di essere una popolazione unita, matura, che cresce, una popolazione che partecipa ai problemi della collettività. Donare perché? Perché ancora oggi senza sangue non si va. In Italia l'Avis scenderà in campo per promuovere eventi e manifestazioni su tutto il territorio nazionale. Donare è un impegno civico e morale che aiuta tanta gente e ci rende tutti uniti e solidali. È importante educare e sensibilizzare che il dono del sangue è un atto di civiltà e anche un atto di solidarietà. Il donatore ha una grossa responsabilità perché con il suo sangue riesce a dare supporto e vita a molti pazienti che senza questo dono così prezioso non potrebbero vivere. Purtroppo si sono fatte molte ricerche per avere il sangue cosiddetto artificiale o dell'ingegneria genetica, ma è una linfa vitale, è un prodotto talmente importante e biologico per cui solo con il dono si può tutelare la salute di chi ha bisogno. Grazie mille! 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 Grazie mille!